Sack Muscat esordio dal primo minuto in questa stagione, una vittoria importante per la Rizzo. Ti chiedo che sensazioni hai per questa tua prima da titolare? Sì, come hai detto, è la mia prima. Per me significa tanto perché ho lavorato tanto per avere questo punto. È arrivato il mio chance, spero che sia fatto bene per la squadra, bene per me. Purtroppo sono venuti i tre punti e quelli sono importanti, ma il mio lavoro è di non prendere gol. Purtroppo alla fine abbiamo preso gol e abbiamo preso un po' di azioni sotto pressione, ma comunque si vede che quello che facciamo durante la settimana sta succedendo durante la partita. Anche oggi è un campo così difficilissimo, abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo adattato per noi stessi. Il lavoro che faccio io per la squadra, sono venuto i tre punti, quindi per l'esordio è buona cosa. Tu hai parlato anche del fatto che nel finale la Rizzo ha subito gol, Sottili ha detto che dobbiamo comunque migliorare durante i 90 minuti, a volte è una squadra che ha delle pause. È questo che ancora vi manca per essere completi? Sì, il calcio è composto di tanti episodi, quelli che cambiano la partita. Dobbiamo stare più attenti, più esperti, con più esperienza su queste cose, per avere la cosa, per fare bene ogni partita e per prendere sempre quei tre punti. Forse è un discorso di rilassatezza mentale, cioè quando Rizzo pensa di averla già vinta, forse, la partita. Forse sì, ma noi eravamo un po', diciamo, nel primo tempo, dopo dieci minuti, si vede che è successo qualcosa, infatti il mister ha cambiato la sistema pure, ha notato qualcosa a lui, dobbiamo migliorare le cose che dobbiamo fare durante tutto i 90 minuti.